Ragazzi, al McDonald's sono tornate le cards dei Pokémon. Sono già disponibili da ieri in tutti i McDonald's. Ovviamente, per avere le cards dei Pokémon, dovete acquistare un Happy Meal. Queste sono tutte le cards che potete trovare negli Happy Meal McDonald's. Eccole qui. Ci sono vari tipi di Pokémon, vari tipi di card, come potete ben vedere. Le cards sono in totale 15. In ogni Happy Meal troverete un box che contiene 4 carte collezionabili e una moneta. E se inquadrate il QR code sulla box del vostro Happy Meal, potrete fare dei giochi interattivi. Vi ripeto, le cards sono già disponibili in tutti i McDonald's. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti nessun video sulle sorprese che escono negli Happy Meal McDonald's, sui Pokémon e su tanto, tanto altro ancora. Lascia un bel mi piace a questo video, commenta questo video, condividi questo video. Seguimi anche sugli altri social network ed iscriviti ai miei altri canali YouTube. Trovi tutti i link in the box, ossia in descrizione. Ciao belli!